Ciao, in preparazione del lancio del mio prossimo libro sul social selling vorrei condividere con te alcuni piccoli assaggini dei contenuti che poi troverai nel libro. Oggi parliamo di come valutare l'efficacia della tua attività per fare social selling, in particolare su LinkedIn e Twitter. Prova a rispondere alle seguenti domande. Quanti sono i tuoi collegamenti su LinkedIn? A quale tasso di crescita si sta sviluppando il tuo network? Per quanto riguarda Twitter, quanti sono i tuoi follower su Twitter e come stanno crescendo, non solo in termini quantitativi, ma ovviamente in termini qualitativi. Tornando a LinkedIn ti chiedo di dirmi qual è il tuo social selling index, l'indice sintetico di LinkedIn che analizza quattro dimensioni fondamentali della tua attività su LinkedIn. La tua capacità di creare relazioni, di trovare nuovi prospect, di creare coinvolgimento con i contenuti e di alla fine stringere delle relazioni di successo grazie al tuo professional brand. Infine per andare ancora più nel merito relativamente al business ti chiedo ma quanti sono i nuovi contatti di prospect che stai trovando giornalmente su LinkedIn? Contatti di prospect oppure anche clienti? E ultima domanda, quanti nuovi prospect stai ingaggiando su LinkedIn giornalmente? 1, 3, 5, 7? Scrivi qui sotto questi numeri e da qui poi parteremo con l'analisi e con la definizione di un canale operativo.